Le stufe Cerampiù sono stufe in maiolica artigianale. Seguono il principio di funzionamento base di una tradizionale stube. Abbiamo però voluto in qualche modo rendere questo prodotto molto più agile e semplice da installare. Proprio come una stube sono realizzate con dei materiali davvero performanti ovvero la maiolica, il Keran Fire e il Durasik. Il loro funzionamento segue due principi base fondamentali l'accumulo e il calore radiante. Accumulo significa che la stufa cattura tutta l'energia sviluppata dalla combustione, lo trasferisce al rivestimento in maiolica che lo rilascerà per molte ore anche dopo che il fuoco sia spento. Questo consente di avere minori consumi e maggiore autonomia. Il calore radiante invece è il modo in cui questo calore viene trasmesso all'ambiente che non riscalda solamente l'aria ma anche superfici, pavimento, pareti per garantire il massimo comfort e benessere personale. Sono stufe concepite per seguire i principi naturali del riscaldamento. Non hanno quindi nessun sistema di ventilazione forzata. È importante quindi per loro scegliere il posizionamento all'interno dell'ambiente che consenta la diffusione naturale del calore. Arrivano a scaldare anche dei locali attigui purché questi siano comunicanti con delle aperture. Ormalli attenzionare le nostre idee